Allora Vinicius, Lignani, Loporto, Comotto, Gordanica e Proveder Non sono convocato Vinicius, Lignani, Comotto, Scaliga Allora Vinicius, Lignani, Loporto, Comotto, Gordanica, Proveder e Mendez Che è ancora nazionale Quindi Rizzo e Ruea E anche l'ottimo Crescenzi Salve a tutti Aspetto la solita domanda Vabbè questa comunque oggi ha un significato Che partita sarà? Che partita ti aspetti anzi Ma guarda sto vedendo che sta facendo quotare diversi giocatori Quelli che hanno giocato poco Quindi sicuramente anche loro Vorranno lasciare qualcosa a questa squadra Visto che hanno vinto il campionato Quindi poco utilizzati Quindi sarà una partita vera a tutti gli effetti Come è stato contro il Lanciano Squadra molto compatta Molto stretta tra le linee Ripartenze rapide Insomma, il solito Carpe Quello che abbiamo incontrato all'andata Quindi con uomini diversi Ma con la stessa mentalità Hanno un vantaggio Che hanno già vinto il campionato Hanno la mente a sgombra E quindi libertà mentale totale Non hanno niente da perdere E quindi mi aspetto una partita importante Da parte di me Perché noi ci stiamo giocando Nel playoff Ma c'è bisogno del microfono? Ah perché roba non si sente Alla luce di quanto è successo all'andata Non so Cioè in base a quella partita Insomma hai ragionato Immagino su come affrontare questo Carpe Quindi il solito Perugia Cioè che farà la partita Insomma con la solita impostazione Oppure alla luce di quanto è successo all'andata Magari possiamo aspettarci qualcosa di diverso? Ma guarda l'andata Ricordo me Sì abbiamo giocato un 3-4-3 all'andata Venivamo da tanti pareggi Dovevamo fare il risultato Abbiamo diciamo stravolto un po' la squadra E abbiamo preso quattro gol Quindi giocava a Bagopo Giocava insomma Sì Diversi altri giocatori Quindi poi andiamo a vedere Il primo gol è stato un infortunio nostro Cioè potevamo evitarlo Insomma siamo rimasti espulsioni Insomma è stata una partita un po' particolare E' normale che noi dobbiamo fare la nostra partita Perché dobbiamo Cioè non ci possiamo accontentare del pareggio secondo me Dobbiamo cercare di prendere i tre punti E logicamente con loro dobbiamo stare molto attenti Attenti alle chiusure preventive Cioè non possiamo fare partita all'arembaggio E lasciare scoperti la difesa Anche perché se andiamo a vedere davanti di Lasagna È un missi di terra aria Di Gaudio è veloce Ma chiunque mette Letizia è anche già un buon passo Insomma sono giocatori Che sono propensi a attaccare la profondità Quindi sarebbe Un suicidio Lasciaglia Però allo stesso tempo Noi dobbiamo fare la partita Per cercare di vincere Di chiudere subito Il discorso playoff Metterci a sicuro E andarci a giocare poi L'ultima partita con Cittadella Anche alla luce di questo Sono più importanti I rientri di Falcinelli Parigini e Fazzi O le assenze di Guadagnica e Comotto Ma guarda Sono importanti tutti L'abbiamo visto Abbiamo una cosa importante È normale che domenica Ci sono mancati diversi giocatori Siamo riusciti a A metterne altre Che hanno dato un grosso contributo E così mi aspetto Mi aspetto questa settimana Siamo al rush finale Tutti sono Importanti per questa squadra Logicamente le partite vanno giocate Se ci mettiamo Quella voglia Quella determinazione Del secondo tempo Di quando siamo rimasti In dieci a Pescara Possiamo fare una grandissima partita Un grandissimo risultato Sempre lì Le partite vanno giocate Sulla carta non c'è niente Di facile Abbiamo visto Quindi E quindi Dobbiamo sfoderare Una prestazione importante Perché incontriamo Una squadra molto importante Mister Diciamo che Il modulo Questo è stato il modulo Che ha dato più solidità Nel momento difficile Per lui già ha permesso Di ritornare in corsa Per un obiettivo Che sembrava impossibile A un certo punto Della stagione Però nelle ultime gare La squadra è riuscita Anche a cambiare pelle In corsa Dimostrando anche maturità Da questo punto di vista Anche più volte Durante la partita In vista di questi Eventuali playoff Che sono vicini Manca Appunto Un pochi Due punti Per arrivarci C'è possibilità Di Cambiare adesso La squadra è pronta Anche Ad adattarsi Anche in base All'avversare le partite Sì sì Ma la squadra Sta facendo molto bene Anche quando siamo andati In difficoltà Che siamo stati costretti A cambiare Non abbiamo Riscontrato Grandi difficoltà Secondo me Anche Anche inizio Sì 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 Però non lo so Partire dall'inizio Con un modulo nuovo Non lo so Dipende sempre Da come Da come Ci si applica Secondo me Perché io poi Vado a vedere Le altre squadre Altri giocatori E vedo che Se andiamo a vedere Adesso Carpi Detizia Uno a caso Ha giocato esterno alto A destra Esterno alto a sinistra Esterno basso a destra Esterno basso a sinistra C'è un giocatore Molto Duttile Quindi non è tanto Il modulo O la posizione È come tu Ti cali In quella situazione Io credo Che questa squadra Possa Fare qualsiasi modulo A questo punto Della stagione Anche perché Gli si chiede Per un obiettivo Molto importante Visto che adesso Ci iniziano a conoscere Ormai ci conoscono tutti Non che ci iniziano Ormai ci conoscono tutti Sanno quali sono Le nostre giocate Tutto quanto Potrebbe essere Una soluzione Un trovare Una soluzione alternativa Potrebbe essere Un vantaggio adesso Perché Anche perché Bisogna vedere Anche la posizione Che tu arrivi Se sei costretto a vincere Devi per forza Devi essere costretto A cambiare qualcosa A rivoluzionare qualcosa Quindi Ci stiamo lavorando Non è che non ci stiamo lavorando Però Vedremo Vedremo per questi playoff Vedremo per Per il futuro Quindi Potresti anche Prendere spunto Dal tuo amico Allegri Ma io prendo spunto Da tutti Dai Max Specialmente da Max Quindi Ma è normale Che uno non si deve Fossilizzare Su una situazione Solamente Anche perché Poi Se vai quando vai in difficoltà Poi non hai risorse Quindi la squadra Deve essere pronta A cambiare pelle Ogni tanto E in questo ultimo periodo Lo stiamo facendo spesso E abbiamo ottenuto Ottimi risultati Questo per me È molto importante Di che giocatore hai bisogno Soprattutto Centrocampo Per questa partita Ho recuperato È un giocatore molto importante Per noi Speriamo di utilizzarlo Non lo so ancora Però sicuramente Dobbiamo trovare Una squadra da corsa Quindi Adesso abbiamo Quasi tutti A centrocampo Recuperati Abbiamo più scelte E valuterò domani Nella rifinitura Chi buttare giù Chi buttare dentro Davanti Davanti Abbiamo scelta Una volontà Fra Fabinio Mazzafame Fra Cinelli Ardemagni Parigini Fazzi Abbiamo tutti Quindi vediamo Dobbiamo trovare due Che possono far male Al Carpi Due o tre Ma si Ma a me Si ha due Due, tre Quattro Vediamo Chi più ne ha Chi più ne metta Vedremo Anche se voi Sapete già tutto Quindi Avete spiegato Per tutto In questi due giorni Abbiamo chiuso il posto Quindi Però avete I binocoli Dappertutto Vanno visto La città della domenica Con i binocoli Quelli professionali Quindi Avete visto tutto Da sopra No? Parla da lungo Con gli attaccanti Parla da lungo Con gli attaccanti Ma secondo me Voi siete collegati Con le telecamere Non è che stavate là in mezzo Eh? Bombardi non è che stavi In mezzo ai coreani Si era messo agli occhi Un po' così La francesca No vabbè Abbiamo chiuso Per provare Qualche cosa di diverso Qualcosa di Anche in ottica Futura In ottica playoff Quindi Per la settimana giusta Poi avevamo a disposizione Lo stadio Campo bellissimo Quindi Va bene Tanto poi Non mi sfugge nulla Quindi Mister Sui diffidati Invece Non è Non penso Sarà questa la partita Per fare i calcoli Magari eventualmente Cittadella O pensa anche Col Carpi Di centellinare Un po' Questi Non lo so E che ne abbiamo Cinque se non sbaglio Giacomazzi Mantovani Egazzi Vordaniga E Ardemani Quindi Ne abbiamo cinque Insomma Vediamo di centellinare Un po' Anche oggi Anche Romani Vediamo un po' Ma è tutto da valutare Ancora La squadra si sta allenando bene Con una serenità Il pareggio di Pescara Ci ha portato Un po' di Di tranquillità mentale E che questa squadra Entra troppo Troppo Isterica Nella partita In questo momento Dobbiamo essere Consapevoli Dei propri mezzi Sappiamo che ci stiamo Giocando Una parte Un'annata importante Entrare nervosi Sbagliare tanti passaggi Non ce lo possiamo permettere Invece Il secondo tempo Siamo stati Molto Molto più Concreti Molto più Aggressivi Liberi Mentalmente Forse il fatto Di stare due gol sotto E di non avere niente Da perdere Ci ha fatto sciogliere Un po' Secondo me La squadra Deve già partire Con questa mentalità Quindi Il pareggio di Pescara È stata una tappa Importante Importante A posto Baldano sarebbe prova A giocare Baldano Abbiamo un po' Di alte bassi In questo periodo Ma è normale Dopo che sta tanto tempo Fermo Poi ha avuto Operazione importante Quindi ogni tanto Quando carichiamo Lui Un po' Ne risente Però si sta allenando Con continuità E questo è molto importante Per il giocatore Credo che L'abbiamo visto A Frosinone No? Ha fatto abbastanza bene Poi un pochino È calato un po' Adesso lo stiamo recuperando Però non credo Che possa Perché mi stai a guardare Mi guardi Mi guardi Mi guardi E non ti esprimi E allora No Io tornavo Tornavo al discorso di prima Centrocampo da corsa Perché loro sono da corsa Rizzo quanto è in grado di correre Ma Rizzo ha fatto I ultimi tre allenamenti Bene, bene, bene Molto carico Quindi Ed è una pedina Importante per noi È normale che abbiamo anche Nielsen Abbiamo Lo stesso Nicco Abbiamo Fazzi Che potrebbe mettere Al centrocampo Insomma Io non sto escludendo nessuno Lanzafame Che sta facendo Abbastanza bene Insomma Abbiamo tante situazioni In queste ultime partite Abbiamo giocato Con un centrocampo Di qualità Forse Venerdì mi servirebbe Un centrocampo A più di quantità Bisogna vedere Io guardo la settimana E guardo chi vado a incontrare Poi mano mano Scelgo Siamo arrivati a A pescare Che non avevamo Alternative in avanti E E ho provato con Lanzafame Finto Centrocampista Che ci voleva dare più Solidità di avanti Insieme a Fabinho E a Demagno Adesso abbiamo recuperato Davanti Logicamente Ho recuperato anche qualcuno Al centrocampo Troverò altre soluzioni Non mi posso fossilizzare Sempre sulla stessa formazione Anche perché Bisogna farli anche ruotare I giocatori Visto che andiamo In ottica playoff Non posso avere giocatori Che non giocano tanto tempo E poi Se mi succede qualcosa Che qualcuno si fa male Qualche squalificato Qualche influenzato Non ho nessuno Oppure ho qualche giocatore Che non gioca Da un mese e mezzo Anche le scelte Vanno in base a questo Che andiamo incontro A dei playoff E quindi bisogna Tenere tutti sulla corda E far giocare un po' tutti C'è certe volte Le scelte Vanno fatte così Ragionate Non Non ha pelle Il fatto di pescare Un Lanzafame a centrocampo Insieme a Verra Insieme a questo E perché In alcune circostanze Potevamo fare Una ruotazione Centrocampo Passare a due Lanzafame andare Tra le linee E alzare più Fabinho Che è quello Che ha un passo diverso Tra Lanzafame E Ardemagni Questa era L'idea Iniziale Dell'Alleatore Poi che in campo Molte volte Certe idee Non vengono Però l'idea iniziale Era questa A tratti L'abbiamo fatta A tratti no E va bene Adesso In questa partita Avrò bisogno Di altri tipi di giocatori Secondo me Visto Il potenziale Del Carpe E visto come giocare Il Carpe Ma questo Non deve essere Una bocciatura O un qualcosa È una votazione Di giocatori Che abbiamo Se Verra Al cento per cento No Hai recuperato Completamente La forma Ha fatto Una gran ripresa A Pescara Sì Secondo me Sì Ma è un giocatore Importante Ha fatto un grandissimo Campionato Ma sta facendo Un grandissimo Campionato Ma anche lo stesso Fossadine Ma tutti stanno Facendo un buon Campionato Anche Nista Che è arrivato Adesso sta Abbastanza Bene Nicco Ha dato il suo Contributo Ma per arrivare Qua su dove siamo Tutti hanno dato Un contributo Ragazzi Chi più Chi meno Tutti Quindi adesso È normale Che sta a me Scegliere Gli undici Di partenza E poi Avere la fortuna Di pescare nel mazzo Se c'è bisogno Quei giocatori Che ti possono Far fare Lo stesso tempo Nella partita stessa Un salto di qualità Cioè loro sanno Che chi va in campo Deve dare Il 100% Anche perché Chi sta fuori Se entra Sa che Gli può rubare Il posto Tra virgolette Però alla fine Siamo 23 24 titolari Che a rotazione Gira Chi più chi meno Gira Ultima mister Perché Diciamo che Parli molto Come se I playoff Fossero acquisiti Non dico È normale Progettare Quindi pensare Chiaramente Che sia Che sia così E quindi Io parto dal presupposto Che abbiamo Due partite E penso Tre punti Di stare dentro Due partite Tre punti Penso che Cioè Le potremmo fare Non credo Se no Andiamo a casa Tutti quanti Da l'essa Andiamo al mare È finito Cioè Dobbiamo vedere Domani Dopo di noi I scontri Che ci sono Se vincono Se pareggiano Se perdono Cittadella cosa fa Sì che hanno un po' Tutte partite facili Tra virgolette A Spezia C'è il Lanciano Che già sai Se non sbaglio Insomma Andiamo a vedere Pescara C'è il Varese Se non sbaglio E poi c'è L'Avellino Che mi sembra Che vada Eh C'è una squadra Però Devi vedere questi Cioè Non male Che Dipendiamo da noi stessi Questo è normale Non possiamo mollare In queste ultime due partite Sarebbe da pazzi Io parlo dei playoff In eventuali playoff Cerco di prepararmi In eventuali playoff Però tu hai ragione Tutto può succedere La vita No io voglio vedere che Siete già proiettati Come giusto che sia La mente è proiettata A questa partita Ma sarà anche Alla prossima Però in base C'è Tra queste due partite Ci sono Degli scontri Che Delle situazioni Che ti possono Già dare anche Un riscontro Già dopo Nino Trapani Cioè L'unica partita Mi sembra Sulla carta pace È quella col Barese Di Borno Vicenza Barese Poi Di Borno Vicenza Cioè Sono partite importanti Che ti Cioè Anche con Se noi prendiamo un punto Non dico che siamo già dentro Però bisogna vedere gli altri Cosa fanno Quindi Logicamente Noi giochiamo per i tre punti Sia domenica Venerdì Sia il prossimo Però Non è facile Andare bene a questa Ci consentirebbe Quando andare A Città dell'altra Un minuto E magari A pescare qualche posto Ragazzi Vogliamo essere Beh io Se facciamo sei punti Sarebbe il massimo Lo so Però Puoi mettere in prendione Che puoi fare anche quattro punti Ne puoi fare solo tre Cioè Non è da Da escludere queste situazioni Però Devi Devi giocarle Non è che ti regala qualcosa qualcuno Pensate che ti regala qualcosa qualcuno Cioè È una situazione particolare A noi Le situazioni semplici A noi non ci capitano mai Quindi Cioè Dobbiamo giocare fino alla fine E siamo pronti per giocarci fino alla fine Bene Bene Buon pranzo A presto A presto A presto Buon pranzo